Se stai avendo difficoltà ad avviare così GTA V su Rockstar Games, quindi in questo caso se lo hai preso su Epic Games o Steam e non si avvia perché non c'è il Rockstar Games, in questo caso è possibile avviare prima il gioco su Rockstar Games, come puoi vedere io lo tengo su Epic Games, quindi se non si avvia vuol dire che c'è qualcosa nella sua cartella che è danneggiato, quindi bisogna fare una riparazione. Ma visto che Rockstar Games non ha nessun tasto per riparare il gioco, ha solamente scansione e installazioni supportate nel computer per vedere se ci sono giochi della Rockstar installate qua sopra, andiamo a fare direttamente la verifica al gioco, quindi andiamo direttamente nella libreria e vai sui tre puntini e comincia così a fare una verifica dei file al gioco. Andrà così a ripristinare i file del gioco e provare a vedere se si avvia. Se non dovessi funzionare puoi semplicemente andare su Esegui, %updata%, scrivi qua sopra %updata% e fai ok. Vai su Appdata, vai in local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella del Rockstar Games, eccola qua, ed ecco GTA V. Tu puoi cancellare definitivamente queste due cartelle e fare svuota e cestino. Se no, se non funziona proprio il Rockstar Games, elimina questa cartella del Rockstar Games, definitivamente la cancelli e poi vai su Google Chrome o Internet e riscarica e reinstalla da capo il Rockstar Games Launcher. E poi devi rifare l'accesso, quindi inserisci così le tue credenziali. Invece se lo tieni su Steam, la stessa cosa. Vai su Steam, prendo per esempio un gioco così, impostazioni, proprietà, file installati, verifica integrità dei file del gioco. Questa cosa la devi fare su GTA, se tieni GTA su Steam. Ed eccolo qua. Avvio GTA. In esecuzione. Si avvia anche il Rockstar Games. Se devi installare qualche file o qualche aggiornamento che devi fare, lo fa senza nessun problema. Caricamento in corso. Ed ecco che GTA 5 si è avviato senza nessun problema. Se invece hai altri problemi riguardo al Rockstar Games, c'è una guida nei commenti in primo piano. Puoi guardarla e vedere se puoi solvere il problema di Rockstar Games che non funziona del tutto. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.